Vivere qui è molto bello, sicuramente da privilegiati Sicuramente vivere in mezzo alle piante dà un senso di pace, di tranquillità, di serenità È più fresco e più ventilato, soprattutto in alcuni momenti della giornata Altrimenti ci sarebbe tantissimo calore dato dalle vetrate e dal colore scuro della facciata Mi sento meglio psicologicamente perché è un posto molto bello La broma è la forma di migliore di l'economia L'economia è molto efficace di condividere la tidurale per cambiare molto cambiante per moltiplicare il numero di superfici verde in nostra città. Ora stiamo a designare verticali in molti parti del mondo, in Cina, in Mexico, in Egypte, in Europa. In alcune città stiamo a designare verticali, verticali che sono affidabili per tutti. Questo significa che questo è una delle possibilità di rispettare dell'architectura in futuro. La differenza di temperatura sulla fascia è assolutamente bassa sotto la scuola dei bambini e questo significa che la differenza può essere di circa 30, 30, 32, 45 gradi in summer. Questo significa che questo tipo di freddo non arriva alla città durante la notte. e per plantare le bambini, probabilmente, non dirà il mondo, ma questo è qualcosa che nessuno di noi potrebbe fare. due bambini, dopo il primo bambini, abbiamo osservato il primo bambino. Il posto di construzione è ancora in attività e immediatamente c'è una colonizzazione che, in un paio di anni, è arrivato alla cima. le bambini, le bambini, le bambini, le bambini, le bambini. Dunque, di insetti, sinceramente, ce ne sono pochi, non tantissimi. Ci sono state delle coccinelle all'inizio che servivano per uccidere i batteri delle piante. sicuramente ci sono molti più uccelli che vengono a nidificare qua. Grazie. Grazie. Grazie.